Siamo nella parte inferiore del complesso di Lavra, poche decine di metri dall'altra chiesa e qui adesso stanno celebrando la Pasqua i fedeli della chiesa un tempo affiliata al patriarcato di Mosca. È colpa dei nostri peccati se siamo in pericolo, in colpo me stessa e il nostro governo. E non crede che Mosca abbia delle responsabilità enormi? I diplomatici non hanno saputo trovare le parole giuste. Tutto questo non sarebbe successo senza la rivoluzione finanziata dall'America. Putin è un genio che ha preso la strada sbagliata, ma è uno stratega molto saggio. Se in bocca è il percorso giusto, avremo la pace.